Noi non siamo andati via per la verità ieri, non siamo stati invitati per tenere la conferenza stampa, quindi che andavo a fare? Scusatemi, il sindaco di Napoli... Non è venuto ieri? No, non c'era proprio, forse cominciamo da capo perché se no l'informazione deve avere una sua correttezza. Sta rispondendo lei, quindi non è venuto punto. Non sono stato invitato a far parte della conferenza stampa, la conferenza stampa, voi siete giornalisti, mi insegnate, che uno partecipa a una conferenza stampa se ha qualcosa da dire e poi risponderà alle domande. Nel momento in cui ci è stato detto che alla conferenza stampa parlavano solamente il presidente Lafiso e il presidente De Luca, questo non accade in nessuna parte del mondo, è una grave violazione dei rapporti di correttezza diplomatica e istituzionale, ma noi oggi ci tenevamo a fare, l'avamo deciso già da prima questa conferenza stampa, perché noi non vogliamo che questo evento così importante per la città venga avvelenato o sporcato da scorrettezze istituzionali e diplomatiche, che è chiaramente uno sgarbo alla città di Napoli. Vorrei ricordare che la città di Napoli sta ospitando migliaia di atleti, decine di migliaia di collaboratori, centinaia di migliaia di turisti, lo sta facendo caricandosi anche dei disagi, molti di questi disagi dovuti a scelte di chi magari poteva diversamente mettere in campo alcune azioni, l'ho detto in conferenza stampa, il villaggio sarebbe stato meglio farla alla mostra oltremare, ma queste ormai sono cose che abbiamo raccontato solo per amore della verità. Adesso godiamoci tutti quanti questo evento, la città di Napoli ha dimostrato di farsi trovare pronta, si è fatta trovare pronta con il lavoro straordinario, veramente il termine straordinario, si fa oltre l'ordinario anche in termini proprio di impegno di risorse umane, di tutte le articolazioni del Comune, ma anche delle altre forze istituzionali che incidono in città, quindi noi da questo punto di vista abbiamo già raggiunto l'obiettivo. Adesso godiamoci l'università, di domani c'è una cerimonia inaugurale, ci vuole un clima di pace, un clima di coesione, un clima disteso anche tra le istituzioni, ho dato sempre messaggi distensivi, ovviamente se qualcuno pensa di mettere le mani sulla città, questa è una cosa che non può essere accettata. Quindi credo che si siano ristabilite le cose, ieri abbiamo fatto i passaggi che dovevamo fare, quindi siamo convinti che dal 3 al 14 luglio andrà tutto bene, che alla fine sarà un successo, ma che soprattutto alla fine rimarrà in città tutto il lavoro di riqualificazione che abbiamo fatto, dalle strade alla sistemata della città e soprattutto gli impianti sportivi, anche qui grazie al lavoro delle donne e gli uomini della città di Napoli. Lei ha paragonato il Presidente De Luca a Ciausescu per i manifesti affissi in città, una cosa dura, pesante. Insomma la conferenza stampa l'avete vista e fa anche con un taglio di ironia e di umorismo, di fronte a chi è greve il Sindaco di Napoli risponde anche con il sorriso, con l'umorismo, avrei preferito, come dire, qualche, visto che i soldi spesi per la comunicazione sono tanti da parte dell'agenzia regionale, la regione ha impegnato molto in comunicazione, sinceramente qualche manifesto in meno di propaganda in città, no, l'avete visto tutti, quello vicino al porto, e qualche manifesto in più in giro per il mondo, per dire venite a Napoli per le università 2019, lo dico da cittadino oltre che da sindaco, sarebbe stato un utilizzo migliore del denaro pubblico. Io posso dire che il Comune di Napoli per la parte di sua competenza, cioè ristrutturazione di impianti e altro, ha speso al meglio i soldi, vedendo come obiettivo solo l'interesse della città, dei napoletani e del bene pubblico. Se avessimo potuto gestire la comunicazione, certo non saremmo stati nell'elenco degli imitatori di Ciausescu, sicuramente, perché questo non ci appartiene, questo modo di fare politica, assolutamente. Penso che il Presidente De Luca si comporta come un imitatore di Ciausescu, lo penso, sì. Sì, ma domani comunque lei ha detto stringere la mano naturalmente al Presidente. Sempre l'ho fatto, anche quando lui mi saluta con la mano sinistra storta, io saluto con la mano destra. Mi ha pensato mia mamma e il papà quando ero piccolino, ci sono alcune cose che fanno parte della vita. Quindi trego. Come? Trego, insomma. Ma da parte mia non... Allora, io vi pregherei di non parlare, scusate, di rissa, perché io poi sono un giurista, lo sapete. La rissa è un articolo del codice penale, è quando due gruppi si affrontano e si azzuffano. C'è anche la cosa di ieri, bastava come dire che è una cosa normale, cioè interveniva le autorità, rispondeva alla stampa, era il benvenuto alla stampa. Cioè pensate l'immagine che noi facciamo, ma come mai il sindaco non ci sta il benvenuto alla stampa? Cioè tra l'altro nel mondo, nelle città vengono accomunate al sindaco che rappresenta la città, quindi non è una rissa. Semplicemente noi nel momento in cui si è fatto una cosa gravissima nei confronti della città, abbiamo semplicemente risposto. Non è manco un diritto di resistenza, è talmente lieve. Ripeto, se avessi voluto utilizzare i loro mezzi, io ieri bastava che premevo un pulsantino, gli facevo saltare tutto il programma della città, a me ci voleva niente. Cioè se fossi la stessa logica dell'imitatore di Ceausescu, io ci metterei tre secondi, ma io a differenza di altri, perseguo l'interesse pubblico e l'interesse collettivo, sono un uomo delle istituzioni e so anche rispondere col sorriso di fronte alla grevità. Altri ormai stanno al pre-politico, hanno proprio problemi, hanno proprio un disagio, diciamo, personale. La posizione della riunione in cabina di regia, quando si decise di andare avanti, che è un po' diversa da quella che ci è sempre stata fornita, la posizione della regione campania qual era? Beh, i peati verbali, perché se no pure qua facciamo come De Luca dice una cosa e De Magistris su una. La posizione della regione era, tra regione e governo si contendevano il rinvio o l'annullamento? La posizione della regione era il rinvio. Il governo mi sembrava più orientato ad annullarlo o comunque a rinviarlo, ma sicuramente erano entrambi nettamente contrari a fare l'Università di Napoli 2019 e devo dire anche il CONI riteneva di non potercela fare, supposizione però di accompagnamento rispetto al governo nazionale e regionale. La prima presa di posizione la fece il governo nazionale e disse che secondo loro non c'erano le condizioni, quindi parlo del governo gialloverde, 5 Stelle e Lega, che dicevano che secondo loro non c'erano le condizioni e quindi erano più propensi ad un annullamento o al massimo un rinvio. La regione che intervenne subito dopo parlò di rinvio. A quel punto intervenne io e dissi che Napoli era pronta. Questo lo voglio dire perché è amore di verità e sono i fatti, sono i verbali. Sindaco ci aiuto a spiegare perché ieri a domanda precisa il presidente del Cusi ha detto mi meraviglia l'assenza del sindaco, c'era il cavaliere sul banco della conferenza, lo aspettavo qui per potergli stringere la mano e salutarlo così come... Per me è chiusa la questione. Noi ieri non abbiamo partecipato perché non era previsto che il sindaco di Napoli e quindi la città di Napoli partecipasse attivamente alla conferenza stampa. Erano presenti il mio capo di gabinetto, il capo del cerimoniale, il dirigente dell'ufficio stampa che erano là perché il giorno prima c'era stato detto che invece avremmo partecipato alla conferenza stampa. Come si sono recati? Io ho dovuto sconvolgere la mia agenda della mattina che era già piena perché loro avevano organizzato già da tempo questa conferenza stampa senza di noi, poi noi l'abbiamo appreso sabato, abbiamo fatto notare che era un po' strano che la città non parlasse, loro ci avevano detto avete ragione, parlerete pure voi, poi sarà successo qualcosa tra domenica pomeriggio e domenica sera perché loro sono arrivati lunedì mattina con l'idea appunto che io dovessi parlare e gli hanno detto in modo molto netto, ci sono qua testimoni, li potete sentire, no, parlano solamente il presidente dell'afficio e il presidente della regione. Io che mi stavo dirigendo alla Mostra Oltremare, ho spostato la macchia, l'ho girata e me ne sono tornato a Palazzo San Giacomo perché è evidente che non posso assistere a una conferenza stampa di altri, questo penso che non ho bisogno di spiegarvi delle ragioni che sono così evidenti. E si è perso un'occasione ancora una volta evidentemente di un capriccio che non penso sia della FISU o che sia del CUSI o di altri, ripeto anche qui poi andiamo nelle interpretazioni, da quello che ho visto in questi mesi e poi si riesce anche a intuire, non è che si deve fare un processo o un'indagine, si riesce anche a intuire di chi abbia messo il veto al fatto che possa parlare il sindaco di Nao. Ormai stiamo, ripeto, l'ho detto anche in conferenza stampa, tra i capricci e la propaganda, anche su questo ci siamo dovuti in questi mesi confrontare. Non è stato facile, io perciò sono molto contento che siamo arrivati a questo, sono felice e gioiscono nonostante queste cattiverie che sono state fatte perché noi abbiamo dovuto avere a che fare non solo con i problemi burocratici, con i problemi in posti mesi di raggiungere questo obiettivo, ma proprio di fronte ad atteggiamenti di capriccio, di ostacolo, di propaganda, ma fino anche proprio di arrivare a dei punti di comportamento istituzionale che io in 27 anni di istituzione veramente non ho mai visto. E' una vita, ma mai dire mai, però quel mai dire mai si è verificato in questi giorni.